Preferiscono non parlare, confidano nella giustizia che possa al più presto individuare gli ignoti che questa notte hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro le loro attività. Parliamo di Daniele Teororo Arigliano, in particolare quest'ultimo socio del Brindisi Calcio, la cui attività di cavallino, come quella che vedete alle mie spalle, qui siamo a Brindisi, è stata presa di mira dai malfattori con cinque colpi d'arma da fuoco esplosi contro la Saracinesca. Tutto è accaduto a cavallino in provincia di Lecce intorno alle quattro di notte, cinque colpi d'arma da fuoco che sono stati esplosi contro l'aspirapolvere, rivendita di elettrodomestici e altri due contro la vetrata del caseificio La Mordilatte. Sul posto i carabinieri per i rilevi del caso, i due imprenditori come è noto Brindisini hanno guidato la cavalcata in serie C della formazione adriatica. Le attività dei fratelli Arigliano solgono accanto alle altre lungo via circonvalazione e sono praticamente contigue. L'aspirapolvere, negozio di elettrodomestici, è l'attività gestita da Teodoro Arigliano. È qui che gli autori dell'incursione armata si sono accaniti con ben cinque colpi di pistola sulla vetrata, due invece sono stati quelli esplosi contro il caseificio di Daniele Arigliano. All'interno a quell'ora erano già al lavoro alcuni operai che pare non si siano accorti dell'accaduto e che fortunatamente sono rimasti illesi. Al vaglio degli inquirenti ora i filmati di videosorveglianza grazie ai quali si proverà a capire chi ha sparato e soprattutto a risalire al movente dell'atto intimidatorio considerata la molteplicità degli interessi dei due imprenditori che contempla ora anche l'ascesa nel mondo del calcio professionistico.